C'è aria natalizia in casa Fedez, c'è una renna sul balcone, c'è una calza sul kalashnikov, c'è un babbo natale, c'è un albero di natale, è natale! La mia prima domenica libera dopo settimane, forse mesi, penso che andrò al mercatino di natale a comprare delle palline, così. No, sbaglio sempre il tasto, e luce fu! Non c'è la nebbia, incredibile. Vabbè raga, ma non so se vedete i tetti, sembra che c'è una guerra praticamente, sono tutti i riscaldamenti accesi a Milano. No, ma non stiamo inquinando amici, tranquilli. Poi io dico inquiniamo, però in realtà non so cosa cazzo siano queste robe di fumo. E quando accendi i riscaldamenti, fatemi sapere voi se qualcuno sa che cosa sono tutte queste cose. Probabilmente è quando accendi i programmi di oggi, sono a limonare con un gremlins e non fare un cazzo di niente. Ma la tristezza di questi giochi domenicali, di questi che corrono per toccare una cartina geografica. Raga, il comitato che parla, mamma mia che tristezza! Raga, sto volando, non ci crederete mai ma stanno chiedendo la moviola in campo per vedere chi ha toccato prima la cartina. Guarda, raga, sto volando, neanche nell'NBA c'è sta roba.